Ups, a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per fare il trigger numero 2 del calendario dell'avvento. Quindi mi raccomando, indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e ascoltate il trigger numero 2, va bene? E oggi ho scelto per voi questa spugna da bagno, quindi 3, 2, 1, cominciamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!